Per non correre il rischio di non trovare più abbonamenti, noi ci siamo piazzati già qua da adesso, d'estate, così appena aprono i botteghini, subito 5 abbonamenti. Bravo, bravo, bravo. Io non voglio abbonare. Io non voglio abbonare. Perché? No. Ma lo faccio, lo faccio, lo faccio. Lo fa, lo fa, ha detto che lo fa. Grazie.